La notizia che si è diffusa nella giornata di ieri sulla vicenda dei furbetti del tampone ha varcato anche il confine della nostra provincia e suscitato inevitabili reazioni. Sono 51 quindi gli indagati della Procura nell'inchiesta, tra di loro anche la direttrice dell'istituto carcerario Tullia Ardito, accusata di peculato, abuso d'ufficio e omissioni di atti. Secondo gli inquirenti avrebbe omesso di regolamentare l'accesso alla struttura per l'effettuazione del test. Il procuratore capo Teresa Angela Camelio raggiunta telefonicamente ha confermato la conclusione delle indagini e i contorni dell'inchiesta. Non conferma però i singoli nomi che non vorrebbe venissero diffusi. Si astiene inoltre dal convocare una conferenza in questo senso proprio per non alimentare ulteriormente una vicenda che ha un impatto così importante. Tra gli indagati figura anche l'ex responsabile del presidio sanitario del carcere, la dottoressa Paola Zaldera, poi sospesa dall'ASL dal servizio perché non vaccinata. I numerosi agenti di polizia penitenziaria dal comandante in giù, tra questi anche un agente Novax che avrebbe effettuato una ventina di tamponi per poter andare in palestra. Nella ricostruzione dell'accusa il sistema di illegalità era diffuso. C'era chi approfittava della possibilità di accedere senza sborsare un euro per ottenere il Green Pass, ma anche chi lo utilizzava per andare in vacanza oppure al ristorante. Una situazione complessa quella del carcere di Biella che ora andrà inevitabilmente avanti.